Tra il 2020 e il 2021, gli anni più bui della pandemia, sono stati denunciati complessivamente circa 191.000 infortuni da infezione da Covid in ambito lavorativo. Di questi ben 130.000, pari cioè al 68,3% del totale, hanno colpito la componente femminile contro il 31,7% di quella maschile. I dati sono contenuti in uno studio, diritti delle donne lavoratrici, rischi infortunistici e tutela del lavoro, che l'ANMIL, l'Associazione Nazionale Fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha realizzato in occasione della giornata internazionale della donna su iniziativa del senatore Gian Claudio Bressa, che è stato presentato in Senato. È stato uno studio molto importante perché si è incentrato appunto sui rischi infortunistici delle donne in particolare e che le donne hanno corso durante soprattutto questa pandemia. Infatti le nostre donne sono coloro che hanno pagato il prezzo più alto durante questo periodo, questi due anni abbondanti, durante i quali hanno non soltanto dovuto adempire i loro obblighi lavorativi, ma anche a tutti quegli adempimenti familiari come accudire figli, accudire anziani e quindi in buona sostanza il volto delle nostre donne è cambiato. La donna ha bisogno di normative che la tutelino maggiormente e l'ANMIL ha appunto per questo organizzato uno studio, un convenio proprio per spingere le istituzioni che già comunque sono attive in questo senso, affinché si possa ottenere un quadro normativo che migliori la vita lavorativa e appunto familiare della donna. Così l'ANMIL ha voluto rendere omaggio alle donne che hanno continuato a lavorare per contribuire a resistere in questa pandemia, dedicando loro questo studio che mette in luce come il contesto socio-economico abbia reso travagliata anche la fisionomia del fenomeno infortunistico. È importante prevenire soprattutto gli infortuni sul lavoro o come in questo caso della pandemia e cercare di implementare tutte quelle normative che ci consentono appunto di prevenire appunto il virus e quindi la malattia che purtroppo ha colpito tutti noi. L'associazione è sempre presente e con i suoi comunque contatti istituzionali riesce comunque a creare una rete a livello nazionale e anche nel nostro territorio per garantire assistenza e tutela alle vittime di infortuni sul lavoro, in particolare alle vedove di caduti sul lavoro ed orfani.